Allora, boys, ci tenevo subito a dire una cosa per farvi capire. Codice, c'avete il punto esclamativo, lev loop, come sempre in chat. Col codice sconto blur, se pagate più di 75 euro, c'avete il 40% di sconto. Sotto i 75 euro c'avete il 15%. Allora, frate, prima level up che bevo da post parosmia, miracolo! Allora, io tecnicamente... Fare te alla pesca, potrebbe essere ottimo. Perché? Perché noi beviamo te alla pesca perché non ci piace guardare gli anime. Io dovrei sempre far vedere lo shaker di level up, ma la verità è che non ce l'ho. Quindi adesso io lo metterò dentro la cosa d'acqua, cadrà tutta terra, arriveranno le formiche. Ricordo anche che ci stanno i miei shaker di level up, tecnicamente, se non sono già finiti. E il colore per la prima volta è rosso! Oh, finalmente hanno fatto un colore umano! Colore rosso! Tanto questo è palesemente pesca e un'altra cosa. Vabbè, frate, questa è il sponsor più facile del mondo. Vi piace l'aranciata rossa? Cioè, vi piace l'aranciata base rossa? Questo è quanto. Ipernova Edition. Evoluzione del nano! Allora, signori, oggi è una grande serata. Oggi è una grande serata. Una grande serata perché per un'ora e mezza non avremo tifosi accaniti di calcio in chat. Poi magari torneranno, o forse no. È il momento dei Toti in questo momento. Quindi saranno tutti lì davanti alle loro TV a spacchettare, a trovare dei Toti da darsi belli che in culo. Ok, ma dammi il rec, ok. Ma è tutta col turbo. Ma che può andare a stordo? Ma salta, sta macchina? È quella che spinge, Giamman. È quella che c'è il turbo. Porca te, mi chiedi a sottare. No, no, no. Perché? Che cazzo è vero? Ragazzi, ma abbiamo passato in mezzo. Non ci possiamo colpire. Il turbo non c'è. No, ragazzi, c'è, c'è con la X. Ragazzi, sono volato. Il turbo. Stanno volando tutti. Ovviamente, ragazzi, nessuno si tocca. Chi è undicesimo? Nessuno si tocca. Ma no, sono tumultuoso. Ma no, sono tumultuoso. Titti, ma prima è giusto, questa gara può essere rilo. Ma ragazzi, c'è più male la gara. Ma c'è i bambini morti sotto le ruote. La mia madre, signori. È un po' brutto da dire. No, ragazzi, ha vinto quello del livello 1400. Ha frenato davanti a me per far una roba. Ma che cazzo stavi a dirsi? Oddio, superato uno. So' accaduto 60 volte, porco Dio. Oddio, ma che cazzo bisogna andare. Ma che carine. Una cucinella tesi. Partenza incredibile. Ah, non si. Dai, cazzo. Non mi toccate, non mi toccate che prendo un volo clamoroso. Avenza di stronzo, porta Dio a Forleo. Forleo, stranamente Forleo. Brate, bisogna credere, bisogna credere nella cosa. Le porco di Cristo di Dio. Ma non c'è la madonna. Brate, non si controllano. Non state più sbagliando. Ma che cazzo lo guido? Salvo culo. A Cristo Dio. Trovo assurdo e abbastanza ridicolo che uno debba andare o a... E' visti a Cibulli. Prendiamo lo stesso. In contemporanea. Mi sembra una mancanza di rispetto dover andare per forza o a destra o a sinistra. Secondo me ci dovrebbe essere una strada centrale. Ma ragazzi, ma io sto facendo. E' strano. Olè. Inevitabile, inevitabile, inevitabile. Salvo culo, salvo culo, salvo culo. Ti ho preso? Quello che vende tua madre. Porca madonna, frate. Tutti li prendo. Li prendo. Oh, ti riprendo. Ho fatto la collezione palini. Ma porca... Oh, oddio. 12esimo. No. Oddio. 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 Ma c'è stasso? Ma porca addio della madonna, funtana. Madonna incrostata. Che grande. Ma in una posizione incredibile. Nono. Il lusso estremo. Nono sarebbe stato veramente il lusso. Sarebbe stato. Grande scena di Fast and Furious quella. ma che vuol dire la macchina armata come funziona non lo so ma puoi sparare se mi sparate vomito bellissima ma sta macchina non spara frate meme di quello ragazzi questo qui mi prendono io spero che dio porco si deve cadere l'aereo eccoci qua tt2 tu sei tutti giro tu sei l'anello mancante da una scimmia porco dio e david rubino è una cosa allucidante ci porca madonna è un ritmo tt2 è me colpito da fare le due già mo oggi ho seppellito il mio testo lo schermo il prezzo dei beat più me è fortissimo è incredibile ragazzi ma la macchina si poteva piccare a quanto pare il carro di vedi michele misterio la macchina dei mafiosi ma che è io che è io che è una cosa che è una cosa che è una cosa che è una cosa ma che vuoi da me passate e passate adesso sono il gigotrattore e viene quello lì preso poca madonna frate mi si sono fatte la macchina praticamente vai sono il gigotrattore è lei macchina rampa però io certo fa l'inizio olè fatti di qui il malunxo spingere fuori ti uccide tutti marzo di me che sei arrivato sono andato un giocaster sono sul nano arco dio non serve a un cazzo non fa nulla che bisogna giocare a questo gioco oddio no no il gigotrattissimo no no ragazzi 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 prego schiviamo tutti qua no non fa manovra ricoglionito no non c'è caso crackers no ok ok ahhh 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 possessedal ahhh ahhh ahhhh ahhh 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 Cioè no, sta all'inizio, appena spavano No ragazzi Ah il maggiorone No ragazzi, mi ha preso un perforatore di lato Ma dai Ma che bufona Il maggiorone Signori 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 è lui Signori è lui No già No già man, dobbiamo fare la combo dei gemelli d'Harry Eccola A meno che non ti si buchi la ruota Olè, olè Ok, no Finito Per farlo dall'infinito, vado Siete sfassosissimi No, chi cazzo era Il maggiorone Ah ragà, col perforatore se tipo Prima di L3 fa troppo ridere Cioè lo vedi proprio in faccia Ma come è arrabbiato Ragazzi Alla Ferrari Alla Ferrari Alla Ferrari è finita Oddio mi tengo dietro a TT2 Intelligentissimo Io mi sto tagliando dietro al fazzone Sì, oddio, oddio Il fazzone vola Eccola Mamma mia TT2 Sei arrivato dal creatore Ma ancora è arrivata Sì Ho portato fortuna Sì, ho portato Sì, ho portato Lo sapevo Nei cieli di Kenting Goverit Sei volato veramente Cooperate per i 10 Olè Vai retromarcia Fai retromarcia Olè Quella è la porto Di cinquantino Come cooperate per i 10 Break Raspirando l'ha finita No, non l'ha finita Non l'ha finita No, tu di square head Sei secondo Sei secondo Porco Dio E hai cambiato la tua direzione Con il pisellone di barbo Per Il fazzone Ho capito È Cristo redentore Sono il camion di rimorchio Del ciagrone Oh, però sta bene Sì, dai Al traguardo It's really up to everybody Guarda Mi fa premi Premi R3 Pensa all'immagine Comandato Nel gruppo Andiamo Fazzu No Andiamo Fazzu Venite qui Ma ragazzi Ma ragazzi Ma ragazzi Ma porco Dio Questo è mio No C'hanno tutti Riescono tutti Che cosa è questa Match in blur Sì Sì Ma non so Ottimo Ottimo Fa schifo Che c'è questa pendenza Ma non so Ma non so Che cazzo Ma non so Di più Non ce ne faccio più Non finisco Non finiamo la gara Quel topato di merda sardo Non finisco la gara Dio porco Qualcuno con il perforiore Si mette in mezzo Si mette in mezzo In orizzontale Non la finisco Dopo aver bestemmiato Sei puttane No La tristezza Di un uomo Ma per due secondi Vince un capo Amore Quindi avete fatto un mix Perché è come Smettata dal cianuro Magus No Ragazzi Magus 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 Che cosa fa che dici Mi ha toccato la cosa Ti faccio adesso Eri tu Zazu Porco No 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 ragazzi Sono bloccato in decima posizione Non facesse il tumore Non ci sono più problemi ragazzi Non mi fate giocare Appena appena il perforatore Io gioco io Cazzo ce n'è una Non c'è solo problemi No ti prego Non è il perforatore al centro Fare un volo Ed è subito Robix 2016 Tranquilli E la gara è finita ragazzi Sta a fare track Dai ma è impossibile Che cazzo fai Il maestro si è parcheggiato Ragazzi Ma guardate che non è l'ultimo Questo Ce ne sono altri Gioco 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 Ok Sì vabbè dai Neymar Neymar No no Lo inganna Lo inganna il fenomeno Neymar il fenomeno Ci sono ancora qui Parco di Mi metto dietro salvo culo Non potranno prendere anche me Tuf tuf Corri Corri Gabbo un passaggio Qui in mezzo Gabbo un passaggio Penta kill Il coso raga Il tocus Neymar No Sta arrivando salvo culo Non c'è ma No Mi serve più visuale Per vedere dall'altro L'hanno messo Aureliano Che cazzo è Aureliano Aureliano Dobbiamo salvare Aureliano Dalla Sersi 34 Sersi dei 17 Finita l'era di salvo culo raga Salvo culo davanti al checkpoint Ha preso e mi è venuto Mi ha messo sotto apposta Sì Non verrà mai più invitato in nessuna gara Che non ci sarà mai più però Perché queste sono le ultime Lo fai vola pure da te Marzo per favore Sì Come si chiama Come si Allora Vip Salvo calo Ok Dov'è gioco estremo Io sono a forza zancuto col maestro Se adesso ti uccide zio Guarda ragazzi Mi sta venendo appresso con la macchina Ti segue Stai a bella troia Vuoi salì? Va bene Marmotte extreme Ti saluto junk extreme C'è quello si chiama marmotte extreme E non mi dà manco il prime Sì sì Capirai Due due regole Le cose ci sono con Sì 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 Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Gianno ma non stare in mezzo qua nel tunnel che non ti vedono Mi fa male Madonna Sando che rischio A Cali Io a me sta crescendo un entisema polmonare Sì Sì Ma c'è il tunnel Ma che cosa Il tunnel La macchina La macchina Col tour Ragazzi Se lo investono Potrei ridere fino a domani Oddio c'è anche il maestro qua ora Ciao Oh io vede Te prego Lei va Titti per il content Ma tanto c'è Siamo già arrivati al content Mettiti qui qua Su questo Titti Vallo per il Tu me mi va 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 3 punti in 3 gare E' finita Ottavo Sarbo culo sopra de me Gabbo di square sopra de me Ricordate che dopo la sin Devo mandare 2 mail a Rockstar Mars ha annichilito stasera